Martedì, 4 settembre. Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG. In evidenza oggi la chiusura del centro islamico di Umbertide, una decisione presa dall'amministrazione comunale a trazione leghista che ovviamente ha creato reazioni sul territorio e le leggeremo, ma parleremo sempre di Lega sotto un altro aspetto perché ieri è arrivato Pillon a Perugia per parlare di elezioni amministrative, per parlare del futuro di Perugia. Nel 2019 c'è un'intenzione di sostenere la ricandidatura di Romizi, ma con dei paletti e leggeremo quali sono. E poi parleremo anche di patenti, vedremo che sono tanti gli Umbri che si mettono alla guida della propria auto ma che di fatto non rinnovano l'assicurazione. Questi alcuni elementi in evidenza, partiamo dal Corriere dell'Umbria che titola Lega, le condizioni a Romizi. A Perugia partono le manovre in vista delle elezioni 2019, il carroccio su immigrazione e sicurezza è ora di cambiare. Un'opera importante del perugino, quella che vedete in questo riquadro, la durazione dei magi conservata alla Galleria Nazionale dell'Umbria sarà esposta fino al periodo natalizio a Milano. E poi, Foligno, alcuni dei migranti della Diciotti saranno accolti dalla Caritas Folignate. A Gualdo Tadino si studia un progetto per una seggiovia che arrivi al Serra Santa. A Dumbertide è chiuso il vecchio centro islamico. A Perugia un treno finisce KO e i viaggiatori sono costretti ad attendere per ore una alternativa. La Nazione è chiusa, la moschea, siamo ad Umbertide, era un magazzino adibito a centro di culto, così è arrivato lo stop del comune. Da Terni, ricordate la mamma che ha abbandonato e dunque destinato a morte il figlioletto appena nato, bene, resterà in carcere. Ancora da Perugia è morto Mario Silla Baglioni, è stato un sindaco tra la gente. Dal Trasimeno, emergenze cardia che al lago arriva la superambulanza. Da Foligno, cinque migranti della Diciotti saranno accolti dalla Caritas. Il messaggero, la Lega in Gabbia Romizzi, ci sono scelte da rivedere sulla questione migranti. Si chiede maggior pugno duro, in particolare per l'ostello di Ponte Felcino, dice la Lega, serviva il pugno duro. Pirati in strada senza patente, in poche ore vengono scoperti ben 12 automobilisti fuori legge. Da anni non avevano la patente assicurativa e le assicurazioni in alcuni casi erano scadute, dicevamo da anni, in altri addirittura da oltre sei mesi. A Terni, stop ai tagli sul lungonera, ricordate i pini che dovevano essere abbattuti, i pericoli erano in un'altra zona. E poi a Spoleto, dove si è tenuta nel weekend la pedalata Spoleto-Norcia, 2.000 partecipanti, è gelo con il Comune perché, secondo gli organizzatori della Spoleto-Norcia, non c'è il sostegno dell'amministrazione comunale a questa iniziativa e allora dicono basta, ce ne andiamo. Questo per le prime pagine dei quotidiani, l'home page del nostro sito internet www.trgmedia.it. Ci ricorda che ieri sera, ieri nel pomeriggio, sono arrivati i pellegrini del sentiero francescano, ieri sera tutte le celebrazioni alla chiesa di San Francesco e poi insomma la consegna del premio Lupo di Gubbio ed anche una rappresentazione teatrale, ne parleremo tra l'altro nel Tg di questa sera. Ora andiamo nel dettaglio del Corriere dell'Umbria, le sue pagine regionali parlano di sanità. Fuga dagli ospedali, Clerici ha lasciato e passa al privato. Dopo le recenti uscite di Carletti e Verzini si aggiungono le dimissioni dal settore pubblico del ginecologo che dirigerà Monteluce. Intanto servono più medici, scatta il piano per farli restare nella nostra regione. L'assessore Barberini commenta le norme varate da Palazzo Denini sul modello del Veneto. Ancora parliamo di scuola perché ovviamente la prossima settimana il 12, secondo il calendario regionale, ma molte scuole anticipano l'apertura il 10, si torna tra i banchi e la scuola riprende con il caos vaccini. Più di mille bambini rischiano di restare fuori perché di fatto non sono vaccinati. Andiamo a parlare di rifiuti, il TAR stoppa gli ambientalisti. La notizia riguarda un impianto di biometano a Casone, quindi siamo nel Perugino, ma in realtà è un argomento che riguarda molti impianti di biometano che mano a mano vengono installati in Umbria. Ebbene, c'era stato un ricorso di WWF, Movimento 5 Stelle, residenti non volevano l'impianto a biometano. Il TAR però stoppa gli ambientalisti e dà il via libera alla costruzione di questa struttura di Casone. E poi ci spostiamo a Monte Castrilli perché c'è una consigliera comunale leghista che scrive al Salvini e dice che il governo faccia in modo di bloccare i sindaci che decidono di imporre maxi aumenti sulla Tari perché Monte Castrilli è proprio il comune che era stato segnalato per questo esponenziale aumento della tassa sui rifiuti. Le pagine di interesse regionale della Nazione che ci parla della Lega ieri a Perugia con, li vedete in questa foto, Virginio Caparvi che è il segretario regionale e poi il senatore Simone Pillone e il segretario comunale Gianluca Drusian che hanno fatto un po' le pulci all'amministrazione Romizzi. Siamo pronti al dialogo con Romizzi, ha detto la Lega, ma non vogliamo veti. In particolare che cosa chiede la Lega a Romizzi per strappare, come dire, il tagliando per i Romizzi bis? Romizzi è un buon sindaco, dice Pillonna, ma noi siamo qui per costruire un percorso condiviso che può portare ad una via comune. Nessuno sposa qualcuno a scatola chiusa. C'è bisogno, dice la Lega, di più mordente, visto che su immigrazione, legalità, sicurezza, ci aspettavamo un'azione forte. Questo il commento di Caparvi, che dunque sa anche come una semibocciatura. E poi sulla questione, tra l'altro, della Lega si torna a parlare anche a Dumbertide perché è proprio un'amministrazione comunale, attrazione leghista, che ha chiuso, e ora leggeremo anche nel dettaglio, anche dagli altri quotidiani, ha chiuso la moschea, il centro islamico, il vecchio centro islamico di Dumbertide. Era un magazzino adibito al centro di preghiera, non rispettava le norme. L'amministrazione comunale ha messo i sigilli. Ma leggeremo ora qualche dettaglio. Questa era la Nazione. Andiamo al messaggero, che in particolare appunta la sua attenzione nella pagina regionale su questo argomento. Pirati della strada senza patente. In poche ore sono stati scoperti 12 automobilisti in Umbria fuori legge. Ci sono trentenni che da anni guidano senza abilitazione. Ci sono assicurazioni scadute da oltre sei mesi. Nessuna fra le persone fermate è sembrata preoccuparsene più di tanto. Ma chi sono queste persone che viaggiano senza assicurazione? Sono persone che non possono pagarla, che hanno difficoltà? In realtà non sempre. Si legge che molte volte sono insospettabili persone relativamente giovani, in qualche caso anche donne, perugini, che a una prima occhiata non desterebbero particolari apprezzioni, poi in realtà si scopre che non pagano l'assicurazione. E poi vi segnaliamo nelle pagine regionali una storia. Da 12 anni c'è acqua inquinata nei nostri pozzi. Siamo tra l'aeroporto di Sant'Egidio e Petrignano. Alcune famiglie da anni denunciano questa situazione di inquinamento. Ora arriveranno i lavori. E ancora per le pagine regionali segnaliamo la proposta del consigliere regionale Leonelli del PD, serve una legge sulla bellezza dell'Umbria. Questo per le pagine regionali. Andiamo nel dettaglio di quelle locali, ripartendo dal Corriere dell'Umbria. E allora leggiamo nel dettaglio che cosa ha detto la Lega ieri a Perugia al sindaco Romizzi, in vista delle prossime amministrative. Lega sì, ma con riserva. Il Carroccio vincola l'appoggio alle alleanze e chiede mano dura su immigrazione e sicurezza. In particolare, che cosa ha detto la Lega? Che se Forza Italia va verso un nuovo nazareno con il PD, cioè accordo con il PD, il Carroccio saluta l'alleanza per le prossime elezioni amministrative. Dice la Lega, ad oggi niente è scontato, né tutti i giochi sono fatti, ma è un dato di fatto che chi va con il PD non può stare con la Lega. E allora questo è un chiaro monito, sicché l'appoggio dipenderà anche dalle scelte nazionali. Intanto la Lega chiede mano dura su immigrazione e sicurezza e il sindaco Romizzi risponde pronto il pacchetto anticrimine, ci saranno più agenti da impiegare in strada. Lasciamo Perugia, si vota anche a Todi. Si vota, sì, scusate, restiamo a Perugia e poi vedremo Todi. Si vota a Perugia, ma guardiamo in casa PD che cosa succede, parla Casciari, e con la quale vedete consigliere regionale Carla Casciari che dice se me lo chiedono, cioè se il PD mi chiede di candidarmi come sindaco, allora mi metto a disposizione e vedremo se poi sarà così. Andiamo a parlare di un altro argomento, sempre da Perugia, quel marciapiede è una trappola, così non garantisce la sicurezza. Siamo in via Ripa di Meana e poi allarme auto senza assicurazione, l'abbiamo visto in poche ore, sono stati tanti gli automobilisti beccati senza assicurazione, otto veicoli sono stati sequestrati. E poi la storia, come dire, complicata ieri di alcuni passeggeri del treno che viaggiava tra Foligno e Firenze, si è rotto il locomotore, in 200 sono stati costretti ad attendere un convoglio sostitutivo a Ponte San Giovanni. È morto Baglioni, è morto Mario Silla Baglioni, che fu sindaco di Perugia nella seconda metà degli anni Ottanta, prese il posto di Casoli nell'Ottantasette, oggi a ferro di cavallo è l'ultimo saluto a un politico di grande umanità, in particolare di lui si ricorda anche quando ricoprì la carica di assessore allo sport nel 1975, con lui iniziò la grande avventura del Curi e dunque oggi la città lo saluta. Parliamo di arte perché un'opera che si trova alla Galleria Nazionale di Perugia, esattamente l'Adorazione dei Magi del Perugino, la vedete in questa foto, sarà in trasferta a Milano nella esposizione che si terrà a Palazzo Marino nel periodo natalizio. Secondo il sindaco Romizzi e l'assessore alla cultura regionale Cecchini, così Perugia guadagna grande visibilità. Andiamo al Trasimeno, i pescatori lanciano sul mercato la salsiccia di pesce, già questo nuovo alimento che sarebbe destinato ad aumentare le vendite del pesce di lago, mentre continua la preoccupazione sulla tenuta del lago, per il lago, dicono i pescatori, non resta che pregare, proprio perché dicono i pescatori, se non piove o se non tira vento, dove la tramontana porta via le alghe, la situazione del Trasimeno è davvero difficile. Andiamo ad Assisi, un concorso per ricordare Mario Aldofri, storico gestore della stazione di servizio di Rivo Torto, scomparso a inizio anno. Ancora dal Corriere dell'Umbria, da Città di Castello, visita speciale al Museo di Burri per i ragazzi con sindrome di Down. Atlante Servizi Culturali ha ideato un percorso didattico ad hoc. Il 52enne Tifernate, che è rimasto ferito dopo uno schianto nel weekend, verrà operato a Terni e poi, ovviamente, l'apertura di Umbertide è dedicata alla chiusura del vecchio centro islamico. La municipale ha messo i sigilli per mancanza di servizi adeguati. L'imam dice che l'ordinanza va rispettata. Allora, leggiamo. Dopo circa 16 anni, nella mattinata di ieri, la polizia municipale di Umbertide si è presentata in Via Battisti e ha chiuso definitivamente il luogo utilizzato dai fedeli musulmani per ritrovarsi e pregare la motivazione, la mancanza di servizi adeguati all'interno della struttura, che altro non è che un magazzino. Fatto sta che circa 2.000 musulmani, tanti sono ad Umbertide, per loro si apre un periodo di incertezza. Dove andranno a pregare? Difficile dirlo. Secondo l'imam e il Caili abbiamo sempre cercato di rispettare la legge in ogni modo e in ogni situazione, così continueremo a fare. Abbiamo cercato, dice l'imam, un locale provvisorio per la preghiera e le attività culturali del centro islamico, ma non abbiamo trovato nulla. Se non troveremo un locale, continueremo a parlare e trattare con il comune. Vedremo che ne verrà fuori. Intanto ad Umbertide si sono concluse le feste di settembre con un ottimo bilancio di presenze. Andiamo a Gubbio, Carabinieri sulle tracce di Bracconieri, che in occasione della preapertura avrebbero cacciato di frodo. Nel mirino dei militari ci sono almeno 5 casi. E poi Pellegrini, ieri sulla via di Francesco sono arrivate la Vittorina e ancora a Roma ha presentato il Festival del Medioevo, il 26-30 settembre dedicato ai barbari. A Gualdo Tadino si ragiona sulla possibilità di realizzare una seggiovia che parta dalla Roccaflea e arrivi al Monte Serrasanta. E poi scuola media di Casa Castalda, più sicura ed efficiente, un milione di euro per interventi di adeguamento antisismico. Ancora torniamo a Gualdo, c'è stata la prima giornata di prove ufficiali dei giochi delle porte. Le porte non scoprono le carte, in piazza diversi debutti. Frana sulla strada per Africa, lavori al via prima dell'inverno e siamo a Nocera Umbra. Foligno si mettono le toppe alle strade Goviera, lavori in sette zone. Poi Luca Innocenzi trionfa anche al palio di Valfabbrica. La Caritas Folignate accoglierà cinque migranti provenienti dalla nave Diciotti. Dopo Otricoli si fa avanti Foligno per ospitare questi migranti che sono eritrei. A Montefalco, Montefalco nell'Olimpo delle migliori città vinicole, lo dice la rivista americana Forbes. Andiamo a Spoleto, progetto per creare il Parco del Tessino e quello presentato alla Regione dal Consorzio di Bonifica. Mentre sempre da Spoleto parla il Sindaco, pronte ad ascoltare le istanze dei residenti sulla questione di ZTL e videosorveglianza in centro. A Terni la droga anche nelle fioriere, rinvenute dalla Digos, 53 dosi in via della rinascita. Mentre resta in carcere Giorgia, la mamma di quel bambino che è stato abbandonato, appena nato, nel parcheggio di un supermercato e ovviamente è morto. Andiamo alla Nazione, le sue pagine locali. Da Perugia i cassonetti invadono i marciapiedi, percorsa ostacoli per i pedoni, siamo in via 20 Settembre. E poi la politica giunta, i redditi più ricchi della giunta di Perugia sono Severini, Fioroni e Bertinelli. Emorragia di iscritti nella CGL, in due anni sono state perse 20.000 tessere. Il calo è del 17,2% tra i peggiori in Italia. E poi addio a Mario Silla Baglioni, è stato sindaco di Perugia. Tra la gente il ricordo del suo vice, Locchi, godeva di un consenso trasversale. A Pian di Mazziano, tra sabato e domenica, gli Avanti Tutta Days, sport, salute e buon umore. Al Trasimeno, Trasimeno è sempre più sicuro, arriva l'unità speciale di soccorso per le emergenze cardiache. che è stato potenziato il parco mezzi del 118. Lo riconoscete? Il popolare attore Colin Firth, che ha la sua villa a Città della Pieve. Il Consiglio di Stato salva la villa di Colin Firth, permesso a costruire e autorizzazione paesaggistica, secondo il Consiglio di Stato, sono legittimi. Andiamo ad Assisi, rifiuti, appello al comune. Adesso occorre creare tre mini isole ecologiche, lo dicono i consiglieri lunghi e bocchini. Ancora Assisi, torna Cambio Festival, il viaggio tra splendidi castelli. Andiamo a Gubbio, eccoli qua, i pellegrini sul sentiero di Francesco. Ieri sono arrivati alla Vittorina, generosa accoglienza, ha detto il Vescovo. E poi a Gualdo Tadino è sconto tra PD e Lega sulla sicurezza. A Gubbio parte dal 26 settembre il Festival del Medioevo, che ieri è stato presentato a Roma. Città di Castello, la mostra del Libro Antico è stata un successo. La città invasa da appassionati. Ad Umbertide vanno bene le feste di fino a 800. E poi il ricordo, trasporto e solidarietà, memoria al Fezzuoio, cena di beneficenza con partita per ricordare, ricordare il carabiniere morto durante una rapina alla banca che cercava di sventare il militare. Sarà ricordato giovedì a partire dalle ore 20 allo stadio di Cervara. Andiamo a Foligno, porta aperta ai migranti della Diciotti, la Caritas ne accoglierà 5, sono tutti eritrei e venerdì saranno in città. Va benissimo la fiera dei soprastanti in attesa della giostra della Quintana e poi siamo a Spoleto, si apre un tavolo ministeriale sull'avvertenza Maran. Chiudiamo dalla Nazione Conterni, neonato morto, la madre resta in cella, dal riesame il no agli arresti domiciliari. Mentre Orvieto festeggia una rinascita dei turisti, l'estate ha riportato i turisti in città, le presenze aumentate del 20%. Il messaggero con cui chiudiamo la pagina dedicata all'attualità e alla cronaca. Da Perugia, una fiaccolata lungo le mura, così si rilancia Sant'Angelo. Giovedì sera, l'abbraccio alla cinta medievale, dal cassero fino al cuore di Corso Garibaldi. L'evento di Radici di Pietra serve per spingere sul tema della socialità e riscoprire la storia cittadina. E poi, abbiamo già ampiamente letto, ma leggiamo comunque il titolo, la Lega a Romizzi, alcune scelte vanno riviste, secondo il Carroccio il sostegno al Sindaco per una sua ricandidatura c'è, ma è condizionato e tra i condizionamenti ci sono proprio gli elementi immigrati e sicurezza che vanno cambiati. Redditi della Giunta di Perugia, in testa Severini, Fioroni e Bertinelli e poi anche il messaggero ricorda il Sindaco Silla Baglioni, che è scomparso. Ancora chiusa la vecchia moschea, siamo ovviamente ad Umbertide, Ospedalicchio, la piazza divorata da Incure e Derbacci, a città di Castello, tanti visitatori alla mostra del libro, ad Umbertide, pienone di turisti per la fratta dell'Ottocento, da Guppio, un focus sull'attività del fotografo Mattia Passeri. Andiamo a parlare di un appuntamento culturale sul palco di Solomé o domenica prossima, ci sarà l'anteprima nazionale dell'opera di Bulgakov, Il Maestro e Margherita, riadattata per il teatro da Davide Riondino, quindi appuntamento da non perdere. Andiamo a Foligno, Quintana e Rione Badia, La solidarietà è di casa, il priore Baldaccini traccia il bilancio, grande successo per l'appuntamento dedicato agli ospiti di Il Melograno. La Caritas accoglie cinque migranti della nave di Ciotti, arriveranno venerdì e poi notti al museo per scoprire i siti culturali che raccontano le bellezze e le rarità di Foligno. Spoleto, c'è polemica tra gli organizzatori della Spoleto Norcia, l'evento in mountain bike che lo scorso fine settimana ha portato 2000 bikers in città, siamo pronti a traslocare, secondo loro c'è una freddezza da parte dell'amministrazione comunale. E poi a Terni, asili nido, il crollo del servizio pubblico. Tantissimi infatti scelgono gli asili nidi privati, ma attenzione ai finti servizi, a scoraggiare i cittadini dall'uso del servizio pubblico sono le liste d'attesa che in qualche modo creano difficoltà, seppur liste d'attesa ci sono anche nelle strutture private a dire quanto è alta la richiesta. Bene, ci fermiamo solo per qualche momento e poi parleremo di sport e guarderemo anche il meteo di questa giornata.